Grande gioia! Sono io! È vero! È tutto vero! Sono io quello che torna indietro e viene ucciso! Non succederà, Doc! Quando avrai riparato i tempocircuiti e messo nuove gomme alla DeLorean, io tornerò nel 1885 e ti riporterò a grande buona fortuna! Per il bene di entrambi! Ci vediamo nel futuro! Vuoi dire nel passato? Esatto! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ci vediamo nel futuro! Vuoi dire nel passato? Esatto! Non puoi ne sapere che chi li senta il futuro! No, 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 no! Oh, grazie a tutti! Grazie a tutti Un momento, un momento va Mi stai dicendo che hai costruito una macchina del tempo Con una deloria Dovendo trasformare un'automobile in una macchina del tempo Perché non usare una bella automobili Tutto, 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 tutto Tutto quello che devi fare è guidare la macchina del tempo Verso quello schermo Accelerando fino a 88 uniti a orari I nuovi tubi di controllo del tempo c'è cui ti sono ballicati Allora Grazie.